Da chi è che suona? Chi suona qui? Quella deve essere la ragazza che lavorava a Parma, chissà. Calcio franco 5 a 7, molto bello il rugby. Rugby! Rugby! A Dio Milva! 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 Raju! Tsi, tsi, pass! Tala, Filippo! Eccola là, si vola, e meta, 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 grandissimo Gabriele Cantarelli, entusiasmo, meta, Gli urlatori di Mesa Eclisse, spettatori sempre seduti, qui si canta anche Francesi Aguccini, non bellissimo è lo stadio, Mirabella, Meta, 10-10, parità, egalità, Deus, Advantage, Padova, c'è la musica, vedete, laggiù, la principessa del rugby italiano, Eccola là, Antonella Gualandri, Miss Andrea Mastrangelo, ma andiamo troppo sul personale, ex Lady Vighi, Mario Vighi che scompa, insomma andiamo troppo sul personale, dentro, 12-10, grazie a tutti, guardate, buon anno a voi per il momento, a più tardi live su DaZone.